Il primo dirigente della Polizia di Stato, Pasquale Ciocca, è il nuovo responsabile della sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria. Si è insediato questa mattina dopo un periodo iniziale svolto in missione, prende il posto di Antonio Macagnino, trasferito d'altra sede. Il comandante Ciocca, di 54 anni, molisano di nascita, ha due lauree in giurisprudenza e scienze politiche con abilitazione forense. È entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1995 e ha lavorato in realtà complesse come Napoli, Vittoria e Cosenza dal 2004 in Calabria alla specialità Polizia Stradale. Nella città metropolitana di Reggio Calabria il comandante Ciocca dovrà gestire un ufficio di specialità articolato su cinque reparti con una forza organica di 150 unità. Tra le sfide che lo attendono ci sono le fasi di imbarco a Villa San Giovanni, il traffico autostradale e il monitoraggio di assi viare di grande complessità. Nell'anno appena terminato la sezione di Polizia Stradale ha rilevato 449 incidenti con nove vittime e ha elevato 14.315 verbali del codice della strada. L'impegno del comandante Ciocca e dei suoi collaboratori si indirizzerà anche a protocolli di sicurezza stradale presso le scuole di ogni ordine e grado con convegni e manifestazioni di legalità. Sinceri auguri di buon lavoro sono giunti dal prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro e dal questore Bruno Megale e dal suo capo di gabinetto Maria Grazia Milli.